Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi dico quando inizierà la GERISMOD così almeno nessuno mi verrà a dire che io non ho avvertito nessuno Allora oggi è domenica 6 aprile, la GERISMOD la faremo precisamente, adesso vi dico quando dovreste vederlo Allora, sì, garantito di brutto, sì, che ve lo riesca a far vedere, perfetto Eh, aspettate Allora, sì, sto facendo delle prove tecniche anche, così almeno, perché faccio più figo Ecco qua Lo faremo il 15, no scusa, l'8 L'8 che è martedì, perché c'è il giorno libero Quindi l'8 aprile 2014 faremo il gameplay Cioè registrerò la puntata di Propant e sia di Slenderman Quindi faremo due registrazioni La prima è di Propant, l'altra è della GERISMOD Cioè, uno è Propant e l'altro è Slenderman Stop It Slenderman, quindi due registrazioni martedì faremo Quindi vi sto avvertendo per chi volesse partecipare Tipo a Zolax La Critica 009 Bizeta Deriz Deserita Tutte le persone, tipo Giga Master 97 Tutte quelle persone che vogliono partecipare Tipo Boxxy e altre persone O Night B1 Possono partecipare Chiunque ha la GERISMOD può partecipare a questo progetto Lo ripeto tante volte, così almeno la gente lo capisce Siccome molte volte le persone mi hanno detto Eh, ma non ci hai avvertito che c'era la GERISMOD Che tu registravi la GERISMOD E quindi noi non potevamo esserci Adesso ve lo dico Si fa martedì Questo martedì, quindi l'otto Eh, si farà dalle Facciamo un orario che dovete rispettare Perché se no la gente poi mi viene a dire Eh, ma io a quell'ora non posso Eccetera, eccetera Allora, minimo dalle diciotto Fino, si può registrare fino alle ventitré di sera Perché c'è gente che magari va a mangiare alle otto Alcuni vado a mangiare alle nove, eccetera, eccetera Allora, per chi vuole partecipare a questo progetto Ci sono due opzioni Chi ha Contestrike non ha bisogno di scaricare questo file che mettono in descrizione Chi invece, eh, non c'è Chi ce l'ha Contestrike Global Offensive non ha bisogno di scaricarlo Eh, chi invece Eh, lo, lo deve scaricare Cioè, non ha Contestrike Deve andare qui Adesso ve lo dico Cioè, deve scaricare il file E mettono in questa cartella Perché altrimenti Non, le mappe gli da degli errori Eccetera, eccetera Eh, Steam Stim Apps Common Get his mod Get his mod Addons Allora Aggiungi Vediamo se riesco Allora Aggiungi Screen region Precisamente così Allora Ecco qua Come potete vedere Qui Si trova su C Programmi 86 Chi ha C Programmi 86 Steam Steam Apps Common Geriz mod Geriz mod Addons Questa qui è la cartella che dovete scaricare Che vi metterò in descrizione Voi in pratica Avete questa cartella qua Dovete fare Tasto destro Estrai qua Poi questa qui la cancellate E la tenete qua dentro la cartella E E sarete A posto Per Per il momento Non doveste avere problemi Di mappe Quindi ve lo metterò in descrizione Sono 700 mega Lo so che magari qualcuno Se la connessione è bassa Non potrà scaricarlo Ci metterà un po' Però avete tempo fino a martedì Quindi Cioè Scaricatela Affinché potete Quindi niente ragazzi Volevo avvertirvi che martedì Ci sarà sia Propante Che Slenderman Così più siamo meglio è Così registro E Così Pubblicizzo Anche i vostri canali Perfetto Sì In poche parole Io sono Sono a mezzo addormentato Devo bere un caffè Eccolo qua E quindi in pratica E dovete cercare una stanza E dovete cercare una stanza chiamata Adesso ve lo faccio vedere anche questo Così almeno non ci sono problemi Burko mark Ok vediamo se adesso Devo spostare un po' qua Metterlo qua Ok Ok Allora aggiungi In region Ecco qua Allora Questo è il TS In poche parole dovete scrivervi questo TS3 .gamehosting.it 2.9988 Ve lo metterò in descrizione Comunque Quando siete qua dentro Dovete andare qua giù E cercare una stanza chiamata DailyStrekOff La password è Live Off Tutto attaccato Quindi Live Off Fate così Merda Perché non mi fa entrare? No forse ho sbagliato Ah si perché ho messo la maiuscola Ok Live Minchia Live Off Ecco qua E7 è dentro E qua si registrerà La puntata Diciamo Registreremo qua Disconnected Ehm E qua si dice Se no Se non siete sicuri E non riuscite ad entrare lì Ehm Cioè vabbè Vi metto tutto in descrizione Cioè non credo che non potete entrare In teoria Dovete cercare solo la stanza DailyS Live Off Com'è che si chiama quella stanza Ve l'ho fatta vedere nel video adesso E dovete cercare quella E scrivere Live Live Off Tutto minuscolo E quindi non credo che ci saranno problemi Di connettervi lì Ehm Quindi su Skype Non credo che ci sia bisogno Che ci connettiamo tutti su Skype Perché non sappiamo connetterci Sul Su TS Perché vi ho dato la password Quindi niente ragazzi Vi ho avvertito Spero che vi connetterete Tutti quanti Perché voglio registrare questa puntata Voglio farne con tanta gente Perché molte volte la gente mi ha detto Ehm Non ci avete Non ci hai avvertito Di questa cosa Noi non potevamo sapere Che facevi questa cosa E quindi noi non c'eravamo Eccetera eccetera Avevamo impegni Cioè dovevi dire prima Ecco per non sentire queste lamentele Ve l'ho detto adesso Due giorni prima Così siete a posto Anzi vedete un giorno prima Se non sbaglio No oggi è domenica Quindi due giorni prima Ve l'ho detto anche Quindi in teoria Non dovreste avere problemi Quindi ragazzi Per questo video è tutto Vi ho prenotato Tra virgolette Vi ho dato la prenotazione Per venire a fare il video Su Gary's Mod Sia Slenderman Che ProBunt Quindi per questo video è tutto Un saluto da Bayon Community Ciao a tutti